Come hanno già detto, sono Mirko Darar, sono gay. Già solo per il fatto che sono quasi 20 anni che mi faccio il culo, dovreste far l'applauso. E non sopporto più i soliti luoghi comuni sui gay. Allora, diciamolo una volta per tutte, gay e etero non sono così diversi. Vi stupirò, ma noi gay facciamo le stesse cose. Per esempio, sul pratico, anche i gay fanno il presepe. Giuro, ma completo di tutto, eh? Grottere, magi, pecorine, tutto, tutto, tutto. Poi i modi di dire, i modi di dire sono similissimi. Voi dite chi fa da sé fa per tre. Noi diciamo chi fa da sé, oh mamma mia che frustrazione. Oppure mal comune e mezzo gaudio. Noi diciamo mal che vada e mezzo claudio. Ci sta sempre bene. Oppure tutti per uno, uno per tutti. Noi entriamo, guardiamo e poi decidiamo. Però, insomma, ci sono tanti stereotipi. Per esempio, si pensa che i gay non guardino il calcio. Non è vero. Io ho smesso di guardare il calcio perché, esattamente come gli uomini etero, odio essere disturbato mentre guardo qualcosa che mi piace. Sta cazzo di palla che passa ogni tanto e mi tolgo le quadrature dei calciatori. Dai, allora. Che poi voglio dire, se c'è uno sport gay, a mio avviso, è il calcio. 22 uomini su un prato, con gli shirts che corrono, fanno le spaccate, no? Parlano di falli e palle tutto il tempo, poi si fa la doccia nudi. Quanti anni sprecati a fare quitazione. Poi anche chi accetta la cosa, no? Chi ci fa dell'ironia. Sono sempre i soliti luoghi comuni. Per esempio, entro in una stanza. Oh ragazzi, tutti col culo contro il muro che entra il ricchione. Allora, a parte che essere gay non significa essere una persona priva di buon gusto, eh? Cosa ti fa credere? Che io voglia venire a letto con te bel trichecone spiaggiato dal sentore micropenico, eh? Ma poi un po' di fantasia. Tu ti copri dietro, ma anche dal davanti escono fuori dai giochi mica niente male, eh? Dai, allora. Poi c'è un'altra battuta che vuole che l'etero vada all'urologo e gli dice mi raccomando, dottore, faccia piano paura, il gay lo incoraggia. Vedi? Lei è una di quelle che fa quella battuta lì. Non è così. Io la prima volta che sono andato dall'urologo ci sono rimasto anche male. Ero lì in posizione. Lui dietro che ravanava sembrava stesse facendo complemento d'arredo, no? A un certo punto io mi tiro su indignato, gli faccio dottore. Che modi! Ma almeno un bacino prima, per bacio. Poi, tutti sanno questa cosa qua. Che i gay si vestono tutti benissimo. Non è vero, guarda Malgioglio! Che ci fa fare delle figure di merda, dai! Poi ci sono quelli che te lo chiedono. Ma com'è che voi gay sapete sempre vestirvi così bene? Sai com'è? Ce lo insegnano alla scuola di gaytitudine. Ah, sì. Esiste la scuola di gaytitudine? Sì! La University Rainbow Magic Land LGBT PQRST. Nome lungo, ma d'altronde non poteva che essere una scuola gay. Ah, cavolo, è vero. Tu entri in questa scuola, tutta rosa, e c'è il maestro proprio di gaytitudine in calzamaglia, attillata, rosa o lilla, seconda del maestro, e lui parte proprio dalle basi. Per esempio il polso. Ragazzi, non così, coraggio, proviamo insieme. Sette, otto e uno e due. Uno e due. Allora laggiù, quante volte ve lo devo dire? Almeno qui è vietata la fila indiana. Un po' di contegno. Laggiù in fondo vi ho sentito. Non si dice mi piace, si dice adoro! Poi c'è quello che dice quanto sono sensibili i gay, il cazzo. Le peggio merde a questo mondo sono i gay, sappiatelo. Allora io l'altra sera sono uscito con un ragazzo gay, a fine serata mi dice guarda tra me e te non può funzionare. Dico ma come? Ma mi è sembrata una serata carina. Sì, la serata è stata carina. Forse non ti piaccio come persona? No, no, sei una persona interessante. Non ti piaccio fisicamente? No, no, sei anche bel figo. Ma allora che cosa? E che io con quelli al di sotto dei 17 centimetri? Gli dico ma perché? È la bocca che misura. Ma vado a occhio. Gli dico adesso è un tipo profondo. È questo il problema? E poi l'ultima, un luogo comune che anche questo è molto conosciuto, i gay sono tutti promiscui. Allora io personalmente non l'ho mai fatto a tre e già tanto se ogni tanto riesco a farlo a due. Da solo faccio dei capolavori, ma vabbè non divaghiamo. Però voglio spezzare una lancia a favore di quelli che magari sono un po' più, diciamo, lascivi. Non è che sono promiscui. È che sono di compagnia. È che ogni gay dentro ha proprio un animo sportivo, anche il più gracilino. Quindi quando vediamo un gruppo di omoni prestanti, facciamo valere il famoso motto. L'importante non è vincere. Il coderare! L'importante non è vincere. Grazie a tutti.